Disegnare la nuova scrivania Bentley Home è stata per me una bellissima sfida, complessa e affascinante. L'idea è quella di portare i valori del marchio Bentley all'interno di un prodotto pensato per l'home office, per essere quindi goduto e vissuto all'interno della casa. Sono davvero molto soddisfatto della collaborazione con Bentley Home perché mi ha permesso di studiare i quadrici del marchio e unirli alla mia idea di design, creando un prodotto molto pulito, essenziale nelle forme e secondo me veramente ben riuscito. Grazie a tutti.